C'è un elicottero diretto al luogo dell'incontro di Robur. L'amico di Robur? Forse, ma sembrava un elicottero della polizia. E chi altro potrebbe girare su un elicottero da queste parti? Non muti. Ehi, muoviti se lo vuoi prendere. E stai lontana dalle strade, sbirri. Ehi, muoviti se lo vuoi prendere. Ehi, muoviti se lo vuoi prendere. Ah! Sto osservando le piantine. È un labirinto. Ed è anche tranquilletto. Cerca di salire. Sei passata? È un no, quindi. È un labirinto. 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 Vedo di scoprire qualcosa su Pope. Mi manda lui. Andate tutti all'inferno. Nessuno può minacciarvi. Fate? Sì. Tutto bene. Allora sbrigati. Iniziano a sudarti le mani, sai? Hai incastrato tu, Kate Connors? La sbirretta. Sì. Serviva un agente, vero? Io non faccio politica. Chi ha ucciso Pope? Tu? No. Io... io ho ingaggiato... Chi? Un professionista. Lo vedrò domani, alle due. Matrio del centro commerciale. Lo riconoscerai. Sì. Perché eri con me? Sei sicura di volerlo sapere? Tirami su e te lo dirò. Attento, Fate. Niente scherzi, o sei storia. Sì. Sì. Merda. Qualcuno spara. Robert ne è morto. Ma che? Stanno per arrivare gli sbirri. Vattene, Fate.